È stato il giorno delle verità di Fornasari, Bronchi e Canestri. Le porte della vela del Tribunale di Arezzo si sono riaperte sulla vicenda vecchia Banchetruria per la nuova udienza del processo sul filone d'inchiesta. Sull'ostacolo alla vigilanza che vede imputati l'ex presidente Giuseppe Fornasari assistito dall'avvocato Antonio Davirro, l'ex direttore generale Luca Bronchi difeso dall'avvocato Antonio Bonacci ed infine l'ex direttore generale e responsabile del Risk Management David Canestri assistito dall'avvocato Luca Fanfani. Si aggiungono infine al pool difensivo dei tre imputati due specialisti di diritto bancario arrivati da Milano, Carlo Baccaredda e Stefano Lalomia. Tutti e tre gli imputati avevano già optato per il rito abbreviato. Gli ex vertici della Popolare dell'Etruria sono arrivati al Palazzo di Giustizia a Retino intorno alle 9.30 di mercoledì mattina. L'udienza ha invece preso avvio intorno alle 10.00. Il primo ad essere ascoltato è stato David Canestri che ha risposto alle domande del giudice Anna Maria Loprete e dei legali del procuratore Roberto Rossi e dell'avvocato di Banca Italia Raffaele D'Ambrosio, unica parte civile ammessa. Il dottor Canestri ha dato un grande contributo di chiarezza, di concetti che sono molto difficili, di precisazione di quelli che sono i margini di discrezionalità tecnica nello stabilire certe poste e quindi ha contribuito, secondo me ha offerto al giudice molti elementi di valutazione per un sereno giudizio su questa vicenda. Siamo oltremodo soddisfatti. Sono certo, non convinto, ma certo che il dottor Canestri abbia smontato una ad una tutte le contestazioni che gli venivano rimosse, crediti deteriorati e operazione di spin-off immobiliare con riferimento all'operazione di Palazzo della Fonte. In relazione ad entrambe le contestazioni ha risposto in maniera assolutamente esauriente, esaustiva a tutte le domande che sono state poste dal giudice, dal pubblico ministero, dall'avvocato che assiste Banca d'Italia e ovviamente dalle difese. La posizione di Banca Italia è l'unica parte civile in questo processo? Certamente Banca d'Italia si è costituita parte civile perché vi è un evidente interesse, non dico non in buona fede, ma un evidente interesse a che tutto quello che è accaduto sia classificato come ostacolo e quindi che Banca d'Italia ne esca come soggetto ostacolato nella propria attività. Perché se così non fosse e se il giudice dovesse pronunciarsi e valutare diversamente cambierebbe lo scenario di questo processo e non solo. Dopo l'ex direttore centrale è stato il turno di Luca Bronchi ma l'udienza è terminata pochi minuti prima delle 4 e così slittata la conclusione dell'interrogatorio dell'ex direttore generale e l'avvio di quello di Fornasari, tutto rinviato al 13 luglio data della prossima udienza. Non si è concluso perché ancora molti temi da trattare e queste quasi due ore in cui è stato sentito ha risposto puntualmente a tutte le domande del giudice, anche perché come avevamo detto stamani l'interrogatorio è condotto dal giudice. Quali sono stati i punti toccati perlomeno fino ad ora? Exclusivamente nel pomeriggio, quel di oggi è stato solo sul tema del Palazzo della Fonte.